Nel nome del Padre e del Figlio dello Spirito Santo, ame. O Maria, Madre mia, umile figlia del Padre, del Figlio Madre Immacolata, amata sposa dello Spirito Santo, ti amo e ti offro tutta la mia vita. Maria, piena di bontà e di misericordia, mi volgo a te in queste ore di amarezza, per implorare il tuo aiuto, Madre ammirevole, Madre della Divina Grazia, vero conforto nel pianto, l'avvocato più dolce dei peccatori, costante presenza di Dio, abbi pietà di me e di tutti quelli che amo. Cuore Immacolato di Maria, Tabernacolo e Tempio della Santissima Trinità, sede del vostro potere, sede della Sapienza, oceano di bontà, ottienici dallo Spirito Santo che il nostro cuore sia il tuo nido dove riposare per sempre. Portami quello che mi serve così tanto, quello che con tutto il fervore della mia anima chiedo, per i meriti di Gesù e per i meriti vostri, se è per la gloria della Santissima Trinità e il bene della mia anima. Vengo a te, vengo a chiedere la tua potente intercessione in questo difficile bisogno, per ottenere la soluzione a questo problema impossibile che mi provoca tanta disperazione e lo trovo irraggiungibile con le mie forze. Per me è quasi impossibile da raggiungere da solo una soluzione a questo problema. Spero che tu mi permetterai la grazia di vedere risolta questa difficoltà e la fine di ogni preoccupazione e dolore che mi causa questa situazione angosciante. Vergine Santa, Nobile Regina degli Angeli, Sposa dello Spirito Santo, ricordati che sei mia madre. Tu che intercedi presso tuo figlio, ascoltami e dammi la grazia che umilmente ti chiedo con tanta urgenza. Dolce Maria, Madre amata, liberami dai nemici della mia anima e dai mali temporanei che minacciano la mia vita. A te tutta la mia gratitudine e devozione. Maria, Madre mia, Santa Maria, prega per tutti noi il tuo Santissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo Seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo Seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo Seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi pecatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie a tutti.